Creare dei tappeti floreali lungo le vie e le piazze dei nostri paesi è una tradizione che risale al 1600 e più precisamente a Roma, grazie al responsabile della floreria vaticana che insieme a suo figlio avevano usato fiori frondanti e minuzzati ad emulazione delle opere del mosaico in occasione del 29 giugno del 1625, festa dei santi Pietro e Paolo, patroni della città. Da allora queste vere e proprie opere d'arte sono state realizzate in moltissime occasioni fino ad arrivare al 1778, quando per la prima volta vennero creati in occasione del Corpus Domini. Da quella data i tappeti di fiori chiamati Infiorate iniziarono ad essere realizzati un po' ovunque, sia in Italia che nel mondo, coincidento sempre con questa festa cristiana. Ma l'utilizzo dei fiori per abbellire paese e città è sempre stato un modo per renderli ancora più vivibili. A maggior ragione questo valeva nella Vibo Valenza di 50 anni fa, quando era chiamata Giardina sul Mare. La speranza di farla ritornare come allora è l'idea lanciata dalla società Dante Alighieri durante i concerti del giovedì Un'idea per la città. Io e il nostro gruppo, diciamo Dante Alighieri, siamo innamorati dalla parte storica di Vibo Valenza che penso sia tra le più belle tra le città della Calabria. Quindi desidereremmo, diciamo, arricchire queste scalinate che come arraggera proprio, come dire, partono dalla parte alta della città fino a raggiungere la parte bassa che possano essere, diciamo, valorizzate con fiori, piante, magari anche tappeti. E' una di queste scalinate che poi è la più bella perché è quella dalla quale si raggiunge addirittura visualmente il, diciamo, l'affaccio addirittura tutto il corso. Ecco, realizzare un'infiorata in questa scalinata che si chiama la Ceraserella. Quindi, come dire, io mi sono ispirata a questo grande architetto Garnier il quale ha sognato per la città la possibilità di creare delle città giardino, delle vere città giardino. E quindi ho recepito questa idea, questo progetto di questo architetto e l'ho, ho tentato, come dire, di realizzarla nella nostra vibbo.